ciao amici da millenni c'è un cibo che aiuta ad avere denti bianchissimi e alito fresco sapete qual è è l'olio di cocco un cibo dalle note proprietà benefiche in tanti campi e da oltre 3000 anni un rimedio tradizionale della medicina ayurvedica che usa l'olio di cocco per purificare la bocca da batteri residui placca e per mantenere il naturale colore bianco luminoso dei nostri denti per questo in india hanno denti bianchissimi a ogni età il loro segreto si chiama oil pulling se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video che cos'è l'oil pulling l'oil pulling è una pratica della ayurveda per cui si fanno sciacqui con oli speciali con il potere di depurare tutta la bocca tra questi l'olio di cocco è uno dei più indicati perché è facile da trovare e ha moltissimi benefici sia per le parti molli che per i denti perché l'olio di cocco fa bene ai denti alla bocca l'olio di cocco contiene acido laurico un acido grasso in grado di contrastare i batteri che causano alito cattivo placca ingiallimento dei denti è un antinfiammatorio e ridona il colore bianco ai denti per questo fare l'oil pulling è utile in caso di carie placca alitosi denti gialli vogliamo provare bisogna trovare l'olio di cocco per uso alimentare bio e puro al 100 per cento oggi comune nei negozi bio e di alimenti naturali l'olio di cocco spesso è addensato cioè solido perché serve calore per scioglierlo prendiamo un cucchiaio di olio di cocco e mettiamolo in bocca senza deglutire stando in bocca l'olio di cocco si scioglie e possiamo iniziare a fare degli sciacqui passandolo bene su tutti i denti sotto la lingua in tutto il palato sulle gengive così l'olio cattura tutte le impurità trascorsi 15 20 minuti sputare l'olio nel vc non nel lavandino perché si otturerà e lavare i denti come siamo abituati bisogna fare l'oil pulling al mattino come prima cosa appena svegli senza aver bevuto o mangiato nulla ogni quanto fare l'oil pulling l'ideale è usare l'olio di cocco tutti i giorni come abitudine se non si ha tempo va bene anche due volte a settimana l'olio di cocco è 100 per cento naturale quindi è un metodo perfetto per combattere alito cattivo denti gialli carie placca infezioni del cavo orale comodamente a casa propria ogni giorno per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano mangia sano e vivi meglio